ciao a tutti benvenuti sul canale di luna prima di continuare però voglio ricordarvi di iscrivervi e attivare la campanella per restare aggiornati con il nuovo video che io pubblicherò e adesso vi lascio il mio video buona visione a tutti amici a tutti amici ben trovati sul canale di lina eccoci qua con qualche bollettino da trattare e oggi cominciamo con come cominciamo cominciamo con i numeri fortunati ok allora buona visione a tutti amici un po fa la nostra trattata prima numero 53 eccolo qua abbiamo 21 34 eccolo qua 19 32 ok abbiamo 60 questo è il 50 no 61 non c'è e 37 eccolo qua noi abbiamo 28 28 non c'è 44 non c'è ne sono gatti 18 neanche 75 75 75 63 64 non vedo ne abbiamo 50 eccolo 55 non c'è 56 l'ultimo numero 69 però non ci importa niente perché ci manca il 12 il 12 non c'è e il 33 neanche amici il biglietto numero 29 della serie 79 non è vincente ok facciamo un portafortuna mini numero 59 della serie 7 sole arcobalene stella e stella parrucca ok questi sono i simboli in tempo vediamo poi i nostri simboli abbiamo un ferro la corona pentolone e il biglietto niente poi abbiamo il banco note non ci sono la perla il lingotto il diamante niente da fare per due abbiamo il portiere che non c'è e poi abbiamo l'anello no niente a me biglietto numero 59 della serie 7 passiamo a fai scoba numero 38 della serie 72 carto sul tavolo 1 0 4 e 6 ci servono 6 allora prima toccata abbiamo 9 5 e 4 abbiamo 5 ancora 3 e 8 non c'è da fare questo è un 7 qua abbiamo un 3 e un 2 10 7 e 1 niente il detto non c'è anche il numero 38 non c'è da fare passiamo i nostri cuccioli serie felina il nostro gattino numero 28 quella serie 27 partenza destra sotto destra sotto sinistra sopra e siamo arrivati niente quando vai sopra abbiamo unito simbolo abbiamo il divano ok qui troviamo una banchina poi abbiamo il cuscino e la lattina fontana e medaglietta abbiamo cibo e questina forbici sabone coccarda coppa e caffè niente di vaname qui numero 28 non è vincente passiamo numerissimi numero 28 della serie 27 anche questo anche questo è vi lascio l'hanno fortunato primo numero abbiamo 88 cominciamo bene 79 79 eccolo abbiamo 21 21 non ce l'ho abbiamo 25 eccolo 89 eccolo qua ne vedo una abbiamo 18 eccolo 47 47 46 47 eccolo 47 eccolo ne vedo una abbiamo 65 eccolo eccolo ce l'ho che l'ho che l'ho 40 ah bene il biglietto non senta me da un po' che non mi succedeva con loro numerissimi poi abbiamo 44 41 abbiamo 70 eccolo abbiamo 90 90 sono 2 e 50 ok allora qui abbiamo anche possibilità ancora di per 2 37 36 80 e 78 ci dà 32 niente abbiamo 53 ma non ci serve e 38 no 78 era e 37 niente 78 che l'abbiamo ma non ci serve perché ci manca il 30 vabbè qui abbiamo preso 5 euro tanto vuol stare belli bassi ok allora prima recupero di oggi 5 euro con i numerissimi numero 28 passiamo al ultimo bigliettino che è una battaglia navale numero 2 della 150 allora prima coordinata abbiamo G6 cominciamo con l'acqua C2 G7 abbiamo F6 F6 poi C1 B3 C7 non ci interessa da fare questa grossa oltre la possibilità H4 e niente a plus vediamo un po' lo scrigno niente scrolla ok battaglia non vincente amici il numero 2 è la 150 oggi cosa abbiamo fatto abbiamo grattato 2 grattini da 5 2 da 3 e 2 da 2 unico recupero abbiamo fatto 5 euro con i numerissimi amici e questo è il nostro recupero di oggi vi sento ringrazio per la visione iscrivetevi e condividete il pollice in cio vi ricordo sempre i miei nuovi canali e dopo alcuni video ciao ciao a tutti un bacio e un bacio alla lina ciao al prossimo video ciao a tutti